Uno incredibilmente a pari merito, mentre qui 800 metri uomini, con Eustace Santiu, la cubana, 2-0-1-82-82, tempo al millesimo uguale. Irina Marasciova, Russia 2-0-2-34, Margherita Magnani rimane un mezzo secondo sopra il suo, lei che è 1.500, 2-0-7-26. E qui ci sono nomi come Antonio Manuel Reina, Spagna, attenzione a Job Quignor che a Rieti ha vinto la Serie B, la Serie dove non c'era Davide Rudiscia, ed Eric Milazar, il quattrocentista dell'isola Maurizius, a fare da lepre. E qui ci sono anche Morsec, il forte senegalese, Antonio Manuel Reina, Spagna, Job Quignor, c'è Nick Willis, Ozilander Andrew Ellerton, Canada, Alan Webb, bentornato all'americano che alcuni anni fa nel 2007 faceva, prima del campionato del mondo di Osaka, cose strepitose sui 1.500 metri, con anche condotte di gara, anche imprevedibili e spergiudicate. Job Quignor, attenzione a questo nome, che si fa raccomandare, è un ragazzo molto giovane, poi c'è Antonio Manuel Reina, poi vengono su altri, fra cui Morsec quest'anno ha migliorato, sia 1.45-81. Morsec è in terza posizione, Milazar ha lasciato. 150, con Reina, Job Quignor a tenerlo, con il 20 c'è Lachlan Run Show, viene su Antonio Manuel Reina, Job Quignor viene praticamente risucchiato da tutti, Reina fa 1.46-51. Il record del meeting, 1.44-72 di Andrea Longo, figlio di questa terra perché di piove di sacco, fiamme e oro anche per lui. Rimane il suo record, allora fece una gara bellissima andandola a vincere. su...